Carissimo, oggi ho fatto un'esperienza veramente commovente. Sono andato a Sienega, nelle zone di Gabriel Garcia Marquez. Ho fatto un'ora di macchina e poi due ore di lancia nella laguna di Sienega per visitare un villaggio di pescatori che vivono su queste case a palafitta, insomma. Ho visitato la scuola, ma ti racconterò, guarda, mi veniva da piangere dalla situazione che c'era, ma nello stesso tempo i volti di questi bambini sempre sorridenti, nonostante la situazione. Guardati i due video che ti ho mandato per avere un'idea, è stata veramente un'esperienza bellissima. Bueno, ¿te gusta la escuela? Sí! Ti racconterò la storia di un maestro che mi ha fatto piangere. Quel maestro di quella scuola, per andare a insegnare, parte da Barranchiglia, si fa due ore di moto, arriva in quel porto, prende una lancia, si fa due ore di lancia, insegna cinque ore e poi si fa quattro ore per tornare a casa. E questo qui guadagna una miseria, mentre dovrebbe essere strapagato per la funzione che fa. Ecco il fatto di come bisognerebbe cambiare il mondo, partendo da queste cose, guarda, mi sono fatto dei pianti quando ho sentito questa storia di questo professore che mi ha commosso proprio nel profondo del cuore. Ma l'America Latina è un mondo di una ricchezza e di un'umanità straordinaria, guarda, io quando sono qui mi sento veramente a casa. Ti abbraccio, ciao caro. E qual è il tuo progetto, che ti fa fare quando sei grande? Mamma! Doctora! Doctora! Mi bella! E tu perché ti piace essere medico? Si, per curare le persone. Per curare le persone. Brava, mio amore, brava. Grazie a tutti.